Noi sappiamo che purtroppo ogni giorno, oggi per esempio, domani, oltre mille italiani scopriranno di essere affetti da un cancro, di avere un cancro. Cioè sono 370 mila gli italiani che svilupperanno nel giro, nell'arco di un anno, il tumore, il cancro. Noi dobbiamo cercare di farlo scoprire, questo cancro, quanto prima possibile perché la diagnosi precoce aiuta a guarire da questa malattia, non soltanto a sapersi curare da questa malattia. Ecco l'importanza della prevenzione. Per quanto riguarda i tumori in particolare, i tumori al seno, i tumori della donna, il tumore al seno rimane ancora purtroppo il big killer numero uno, cioè il tumore più frequente. Se voi considerate che su 100 donne che hanno un cancro, 29, quindi un terzo, interessa il seno, sviluppano cancro al seno. Questa la dice lunga sull'importanza della conoscenza di questo problema. Il tumore al seno è un tumore destruente, destabilizzante sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto anche economico, oltre che su quello sociale. Poi l'organo è un organo un po' particolare perché parliamo di un organo sensibile che rappresenta il simbolo stesso della femminilità, di un organo che per le nostre donne, le donne meridionali in particolare, è quasi deputato alla continuità della specie umana attraverso l'allattamento.